il mio moroso mi ha rubata testimonianza di margherita aglietta nata a trinità di demonte classe 1889 contadina quando sono nata c'erano tre metri di neve mi hanno perduta lungo la strada quando mi hanno portata a battezzare a demonte ero dentro una cesta mi hanno poi subito ritrovata quando mi hanno portato a vaccinare è andata meglio non c'era la neve ero dentro a una cesta sull'asino io da una parte e un bambino dall'altra uno per parte dell'asino siamo nati cresciuti con la miseria mangiavamo la miseria ma fame vera non ne abbiamo fatta mangiavamo quello che avevamo facevamo polenta e latte mio padre ci obbligava a mangiare con la forchetta per paura che pescassimo troppo latte i maccheroni a carnevale pasqua e natale poi delle patate porri cavoli la notte di natale c'era poi un po di caffè di orzo eravamo quattro sorelle e un fratello io ero la più giovane tre sorelle sono morte da piccole di tossa sinina mio fratello è morto di una disgrazia lavorando al bosco padre e madre sono morti nel 1920 il giorno dell'epifania sotto la valanga ai purassa dormivamo nella stalla sul gabet sul bauti sotto la volta tra le ragnatele a nove anni ero già a servire nella borgata come eravamo vestiti i bambini con il tumbarelle con i pantaloni che si sono sul sedere e le bambine con la vestina e basta le ragazze portavano la vesta e sotto le mutande spartite cioè aperte più o meno eravamo tutti poveri mio padre d'inverno andava in francia per guadagnarsi il mangiare andava sopra marsiglia a lavorare alla miniera io a dieci anni andavo in montagna da manuala a fare i fieni a fare i fiori a cogliere le violette 20 soldi al giorno guadagnavo alle violette 20 giorni di fila per prendere 20 lire a 17 anni sono andata in francia a fare servizio in campagna e quando mi sono sposata mio padre non voleva che mi sposassi voleva che aspettassi ancora un anno io avevo 20 anni e il mio moroso ne aveva 28 era un margaro ci parlavamo da otto anni lui una notte mi ha rubata succedevano queste cose avevano già rubato 45 ragazze della frazione una sola non si era poi sposata una notte abbiamo fatto la via insieme poi mia madre mi ha detto domani mattina ricordati che c'è la messa da morto ma io sapevo già di scappare ero nella stalla che mi aggiustava i capelli e intanto mangiavo un pezzo di pane e mi dicevo per un po non mangerò più io non ero ancora fuori tutela ero minorenne allora con noi doveva venire uno della borgata per testimoniare che ero io che avevo rubato il mio moroso e già così il mio moroso non era responsabile siamo scappati in tre io il mio moroso e il testimone siamo scesi a demonte dove abbiamo preso alloggio all'osteria di tartaglia poi l'indomani mattina il mio uomo è tornato su da mio padre a chiedergli la contenta cioè l'autorizzazione aveva paura ma tutto è andato bene la sera ero già a casa e poco dopo ci siamo sposati a demonte abbiamo fatto il pranzo in 7 e 8 io avevo il vestito bianco pioveva e avevo paura di sporcarlo 29 lire ha speso il mio sposo nel pranzo di nozze alla sera siamo tornati a trinità per cena mia madre aveva pronta la minestra dei fagioli poi siamo partiti per ruffia dove avevamo comprato l'erba comprare l'erba voleva dire comprare il fieno e l'erba per svernare cioè affittare una stalla con la dotazione di foraggio la gente di là diceva arriva arriva ha rubato la sposa la sposa arriva io ero vergognata mi sono nascosta sotto la coperta del carro perché non mi vedessero non c'era nemmeno un letto abbiamo accostato due panche un po di paglia abbiamo dormito nella stalla se a trinità c'erano delle masche sì sì che c'erano e tante anche una mia zia magnapina era una masca ha mai detto a nessuno gli anni che aveva all'ospedale non riusciva a morire siamo andati per vestirla perché la credevano morta ed era di nuovo viva era altro che una masca quel diavolo là ne ha combinate noi avevamo comprato un pezzo di terra da lei senza fare lo strumento solo con un uomo come testimone quando il testimone è morto ha voluto di nuovo la terra tutti dicevano che era una masca la picchiavano era sempre livida del colore della lavanda una volta che è venuta in casa di un vicino la casa tremava tutta e le ruole ballavano noi avevamo alcune bestie e lei ci chiedeva sempre e le bestie stanno bene una volta ne sono morte due in una settimana tutta la gente la temeva la chiamavano la pinassa in una famiglia c'era una bambina riuscita male malata dicevano che la colpa era della pinassa che le aveva dato della roba da mangiare un nostro parente aveva le bestie da basto il muro e l'asino che morivano allora è andato da un settimino che gli ha consigliato di attaccare qualcosa di benedetto alle orecchie delle bestie malate quando magna pina se ne è accorta ha detto maledetta quella mano che ha appeso quelle cose lì alle orecchie era arrabbiata perché non poteva più fare del male una figlia di magna pina che viveva in francia ha avuto un bambino morto in una disgrazia l'indomani magna pina aveva già indovinato la disgrazia sapeva già girava nei campi e gridava la notizia a tutti se sono masche la gente diceva che era lei che aveva fatto morire quel bambino a distanza sì che credevamo nelle masche a messa le masche voltavano la schiena all'altare quando il prete si presenta con il santissimo che cosa ricordo della guerra ricordo che non avevamo paura dei partigiani mentre invece avevamo una grande paura dei tedeschi e dei muti su a bandia nell'agosto del 1944 i tedeschi hanno ammazzato pietro beltrando un nostro cugino padre di cinque figli e un margaro che era con lui bertino di monasterolo dopo due giorni li hanno scesi ai puracia il beltrando l'hanno sotterrato il bertino è rimasto nel deposito del camposanto da demonte è salito su keiu il becchino di demonte con il carro per prelevarlo non ha trovato solamente uno che lo aiutasse a portare la cassa tutti avevano paura se nessuno mi aiuta trascino la cassa con il cavallo ci ha detto keiu allora io e un'altra donna l'abbiamo aiutato qui ormai non si può più vivere qui se la gente dovesse solo mangiare sulla terra morirebbe di fame il 70 per cento della nostra terra di montagna è ancora intestata ai morti qui la terra è dei morti